Ecco cosa può accadere quando vorresti chiedere a Dario Capogrosso come dove e quando è iniziata la sua storia di allevatore e addestratore di cani maremania brunzesi i suoi sono i più ambiti e richiesti non solo in Italia ma addirittura nel mondo con il suo metodo di addestramento e selezione Dario nell'immensa tenuta di Sarezzano provincia di Alessandria riesce a individuare quale cucciolo sarà più adatto in futuro a proteggere le pecore dai lupi, le galline dalle volpi o gli albaca dai coyote. Insomma cani da guardiania. Il cane da guardiania si seleziona principalmente quando tu consideri questi tre ingredienti coraggio, diffidenza e aggressività. Sono tutte e tre componenti fondamentali per stabilire quello che il cane poi sarà in futuro. E' attraverso un paziente percorso di affiattamento tra cane e animale da proteggere che si crea un rapporto addirittura di affetto. E quindi non ci si stupisca di vedere un pastore maremano abruzzese vivere beatamente e in perfetta armonia dentro un recinto di poli e galline. Ogni cane si mangerebbe una gallina. Il nostro lavoro è appunto silenzionare i cani con un bassissimo livello di predatorio, quindi di istinto predatorio e eliminare qui con l'addestramento quindi con l'imprinting. Anche questo piccolo ostacolo che anche è il miglior cane, cioè perché il cane non dimentichiamoci di scendere al lupo. E qui siamo praticamente nella sala didattica in cui in qualche maniera crea un imprinting tra i cuccioli di maremano abruzzese e gli alpaca. Questi cuccioli in buon numero andranno a proteggere degli allevatori di alpaca e degli alpaca in allevamenti in tutta Europa e che è il nostro progetto di protezione, di predazione a battaglia. Non tu come capisci che all'interno di una cucciolata... Il lavoro del branco. Si fanno dei testi, riconosco i cuccioli, riconosco i leader nelle cucciolate, riconosco i tester, i hunger, sono vari livelli di protettività e in qualche maniera il leadership all'interno del branco che si andrà a formare. Quindi io preparo delle squadre dalcio. Sono un, come dire, un procuratore. Questi invece sono cani che sono stati selezionati per vivere assieme al greggio di capre e quindi tendenzialmente ora sono qua con me ma tanti giovani andranno a seguire delle capre al pasto e fare protezione specifica sulle capre. La passione per i cani di Dario Capogrosso si perde nella notte dei tempi e nasce da un sogno. A circa 13 anni quando mi morì Pimpo, il suo primo cane, un colpino, promise a se stesso che da adulto si sarebbe preso cura di tutti i cani del mondo. E Dario oggi ha mantenuto fede alla sua promessa, essendo diventato uno stimato addestrattore di pastori mare in mare, la sua tecnica regole ferree, pazienza e tante tante coccole. Sì, ci tengo a precisare un aspetto fondamentale di come l'allora. I miei cani sono cani a guardia più, ma assolutamente non sono cani che andranno mai a scoprire uno. L'uomo è enormemente più forte di una monta di cani, quindi il loro compito è tenere i cani distanti e un più distante di Reggio, quello che compito più da guardia. Grazie a tutti.